Tevez se ne va, dietro Pirlo c'è Bonucci Sì, questo è proprio la mattonella, è proprio la posizione ideale Anche sei metri sono tanti Sono tanti, però c'è la distanza per far abbassare palla E può colpire uno dei due pali Quindi lui, il portiere, si ripara nell'angolo più debole Pirlo cerca l'intesa con l'Istainer, è lo schema della Juventus Pobba si gira e la Juventus ha il vantaggio Juventus 1, Lazio 0 al ventitresimo Ha colpito Pobba, entrato da pochissimo al posto di Marchisio Sì, anche se l'Istainer ha messo la palla ma l'ha messo la cieca Avrebbe dovuto metterla un po' più in diagonale Fortunatamente un rimpallo ha messo in condizione Pobba Che con una Veronica perché la palla l'aveva già superato Poi però ha una grande forza perché fa perno sulla gamba destra E colpisce di sinistro con grande decisione Proprio nella porta sotto la curva sud dell'Olimpico Occupata dai tifosi della Juventus Ha colpito Pobba Pirlo L'Istainer Deviazione di Radu Rapidissimo Pobba Che ritrova la coordinazione Si gira e riesce a battere Marchetti Che ha intuito ma non è bastato per opporsi Sfiora la palla ma mano destra piegata dalla conclusione di Pobba Che rivediamo ancora Ha visto che coordinazione Ha ritrovato il passo in un attimo Olimpics Pobba Pobbi Quien Olimpics Che Che